Bianchi che provano ad avanzare, sempre Procopio a gestire la palla in mezzo al campo Lancia in avanti, Dos Santos la prende, Dos Santos davanti al portiere Dos Santos la palla alta, azione pericolosissima il Torrino Villa Adriana che attacca, bene tra le linee Ci sono tre giocatori, anzi quattro davanti, sempre Tani a riempire l'aria che si fa vedere Invece si va al tiro, la tiene bene Salsano Le frite verdi che anche in questo caso vanno da Tani Prova a smistare la numero 9, tenuto molto bene Prodaci Nicola Sfera messa in mezzo, Salsano non la tiene Allora Tani la tiene stavolta il portiere Punizione battuta da Moscatelli, pericolosa Salsano non la tiene E viene convalidato il gol Convalidato, rete di Moscatelli da lontano Anzi è il numero 11 Dall'altra parte C'è il compagno, ancora palla per Di Maggio Il numero 6, prova il tiro E c'è il pareggio, immediato Torrino torna in partita Sinistro clamoroso di Di Maggio Che gol Batte Di Maggio Colpo di testa alto del capitano del Torrino Battuto la palla rimane lì Ancora pericoloso Il tiro di Trecca Ci prova con l'esterno numero 6 La palla rimane per Tani Attento Salsano Cross da tre quarti, Tani Scheider più centrale in questa fase Rinvia Ottima l'idea per Procopio Procopio uno contro uno Prova il tiro da lontano Il palo di Procopio Tani con il tacco Il filtrante numero 11 E' buona l'idea Il 18 Prova il tiro al volo Pericolosa questa azione Lavorata con pochi tocchi ma efficaci Prova il tiro numero 18 La spizzata di Tani Il sesto gol in campionato Dalla rimessa laterale Arriva il vantaggio Battuta veloce Tani porta avanti Triplice fischio La partita è terminata Sul punteggio di 2 a 1 Vince la squadra di casa Villadriana 2 Torrino 1 Vai Vi 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 Grazie.